Con le vacanze alle porte la città che si svuota i topi d'appartamento sono a caccia d'occasioni per visitare villette e appartamenti mentre i proprietari sono al mare o in montagna. Anche se i dati disponibili non evidenziano particolari emergenze, l'arma dei carabinieri ha illustrato alcuni semplici accorgimenti per provare a mettere a riparo le proprie cose da ospiti indesiderati. Oggi non si può prescindere da una porta blindata e da infissi che siano fatti bene. Soprattutto non si può prescindere da un sistema d'allarme. A tal proposito ricordo che è possibile collegare il proprio sistema d'allarme con la nostra centrale operativa in maniera tale che la pattuglia presente sul territorio possa immediatamente intervenire nel caso in cui estranei entrino in casa. E' questo un servizio che vale sia per la città che per la provincia e è possibile attivarlo recandosi presso qualsiasi stazione dei carabinieri e compilando una semplice domandina per l'autorizzazione del collegamento della centralina telefonica del sistema d'allarme alle nostre centrali operative. Accanto ai sistemi di protezione però c'è un fattore umano che può essere decisivo, quello dei vicini di casa. Accordarsi con il vicino di casa per svuotare periodicamente ogni due tre giorni quanto meno la cassetta della posta perché una cassetta della posta piena è evidentemente un segnale che fa presumere che all'interno della casa non ci sia nessuno. E poi un invito rivolto soprattutto ai vicini di casa nel caso in cui dovessero notare dei movimenti strani pur sapendo che le persone e i proprietari di casa sono assenti ecco è importante chiamare il 112 perché un immediato intervento consentirebbe l'arresto in flagranza dei rei. Nel periodo delle ferie estive comunque le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nelle aree residenziali della città e dei paesi dell'Interland. Passaggi frequenti delle pattuglie evoluti proprio per poter osservare con attenzione le abitazioni vuote e cogliere eventuali segnali di furti in corso. Evidentemente abbiamo già intensificato i controlli nelle zone residenziali, nelle aree che in questo periodo riteniamo più sensibili e nelle fasce orarie ritenute più sensibili che non necessariamente coincidono con le orari notturni. È evidente che soprattutto nei weekend anche le fasce mattutine e pomeridiane sono per noi fasce a rischio.